Buongiorno a tutti, credo che tutti sappiate di cosa parlo se parlo di gruppi frigoriferi ad assorbimento. Si tratta di quei gruppi frigoriferi, di quei refrigeratori, che servono per ottenere freddo dal caldo. Solitamente questi gruppi frigoriferi sono di grossa potenza, vengono applicati su impianti di condizionamento o impianti industriali con carichi termici piuttosto elevati e soprattutto molto costanti. Si utilizzano per lo più nell'ambito delle HVAC, quindi del condizionamento civile o industriale, comunque dove le condizioni sono tipicamente abbastanza lineari e costanti, in quanto si tratta di macchine con un ciclo termico, chiamiamolo così delicato o comunque dedicato. Esistono poi tutta una serie di macchine di potenza decisamente più contenuta, con potenze relativamente basse, che consentono di lavorare a temperature tipiche del condizionamento, ma anche per applicazioni industriali, quindi arrivare fino a una temperatura di meno 10. Si tratta di macchine della Robur, che diversi anni fa acquisì questa licenza, il brevetto per queste macchine, da una società americana. In sostanza si tratta di gruppi frigoriferi ad assorbimento di piccola taglia. La gamma standard di queste macchine solitamente prevede un bruciatore a fiamma diretta, che genera il calore necessario per mettere in funzione il ciclo termico e quindi produrre il freddo. La pensata interessante che mi ha molto coinvolto, e devo dire mi ha affascinato, perché no, è quella di sfruttare i cascami termici derivati da lavorazioni industriali per attivare lo stesso ciclo termico. In pratica hanno modificato la loro macchina realizzando all'interno una sorta di scambiatore che sfrutta dei cascami termici derivati da produzioni, da vapore esausto, da olio diatermico a fine lavorazione, per generare il calore necessario per poter attivare il ciclo termico. Vedete nelle immagini uno schema funzionale di massima di questa macchina. Diciamo che non c'è niente di particolarmente, che dire, rivoluzionario, perché alla fine il ciclo termico è sempre lo stesso. Quello che è interessante è il fatto di poter sfruttare delle energie che diversamente magari verrebbero mandate in dissipazione e quindi poter fare una sorta di recupero energetico per produrre il freddo. L'unico limite, onestamente, che vedo su questa applicazione è il fatto che servano dei cascami termici a temperature piuttosto elevate. Parliamo di 190 fino a 220 gradi centigradi. Ora non è facile trovare dei cascami termici a queste temperature, però devo dire che nel caso in cui si dovessero presentare l'applicazione è decisamente interessante. Ovviamente parliamo di applicazioni dove abbiamo una continua generazione di calore a perdere per poter produrre in continuazione freddo che serva per scopi tecnologici piuttosto che per scopi di processo. Tipicamente direi che la soluzione migliore è quella di applicarle su scopi di processo. Perché mi ha, come dire, affascinato questa soluzione? Perché è chiaramente una soluzione che nell'ambito di tantissime applicazioni industriali potrebbe essere interessante. Non so, mi vengono in mente diverse applicazioni legate magari a fumi di scarico di gruppi di cogenerazione, mi vengono in mente applicazioni legate a fumi da acciaierie, da lavorazioni del metallo, insomma tutte quelle applicazioni dove abbiamo parecchia energia, chiamiamola così, di alto livello in quanto ad alta temperatura. Ora, trovare ad esempio cascami termici con vapore a 220-230 gradi è abbastanza difficile, di solito il vapore esausto è attorno ai 140 gradi, quindi 140-130 gradi, quindi una temperatura che non è utilizzabile per far funzionare questo tipo di macchine. Però direi che, come abbiamo detto con i signori di Robur, sicuramente lo terremo in considerazione perché è un'applicazione decisamente interessante. Come dico spesso, quando bisogna sfruttare delle energie o dei cascami è meglio avere poca portata ad alta temperatura, quindi energia di buona qualità, che tanta portata a bassa temperatura, dove effettivamente i recuperi diventano controproducenti. Cosa ne pensate? Mi piacerebbe avere un vostro parerimerico. Buona giornata a tutti, grazie!